Ciao, io sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Ho pensato di fare un video per spronarvi al self-hosting, una mini guida per muovere i primi passi e soprattutto per coloro che non si sono mai avvicinati a questo mondo perché pensano che amministrare un server sia qualcosa di estremamente complicato. Quindi voglio assolutamente incoraggiarvi perché innanzitutto si può imparare tutto anche strada facendo ma se già siete in grado di amministrare la vostra distribuzione Linux da terminale, da riga di comando, beh, amministrare un server non è che sia molto diverso, amministreremo un server Linux. Per intenderci, quali sono le competenze che dovete possedere o acquisire per amministrare un server? Allora vi faccio l'esempio del mio server, cosa faccio io? Mi ci connetto in SSH, il server è sprovvisto di interfaccia grafica, quindi svolgo tutte le operazioni da terminale. Quali operazioni? Aggiornamento del sistema operativo, installazione di pacchetti, controllo dei processi in esecuzione, delle risorse utilizzate, se c'è bisogno di killare un processo, devo saperlo killare, se c'è bisogno di stoppare, riavviare, controllare lo status di un servizio, di un demone, devo saperlo fare, editare file di sistema, sempre da riga di comando, controllare i file di log, cose del genere, insomma. Se non siete sicuri delle vostre competenze di riuscire ad amministrare un server Linux, provateci lo stesso, avevo dubbi anch'io ed erano assolutamente immotivati. Vi darò istruzioni su come installare un server praticamente a costo zero, quindi cosa può andare storto, insomma. Come primo passo ci procureremo un dominio, un nome di dominio, è chiaro che se avete intenzioni serie e professionali avrete bisogno di un dominio del tipo nomecognome.com oppure nomedellavostraimpresa.it o qualcosa del genere, ma io vi ho promesso il costo zero, quindi ci procureremo un dominio assolutamente gratuito del tipo .eu.org. Come prima cosa andiamo su un server DNS, io qua sono su Cloudflare, registriamo un account gratuito e poi scriviamo un nome di dominio. Ci assicuriamo che quel nome sia ancora disponibile, ovviamente. Io ad esempio scriverò clarintux22.eu.org, abbiamo detto. Questo è molto importante. Andiamo su continua. Poi passaggio 1 di 3, noi vogliamo tutto gratis, quindi andiamo su free, selezioniamo free e clicchiamo su continua. Poi ci verrà chiesto di inserire del record DNS, questo non lo facciamo al momento, perché il dominio nemmeno esiste in realtà. Quindi andiamo su continua, conferma e andiamo in basso a vedere i name server. Ecco qua, ci sono due name server. marty.ns.cloudfair.com, rosa.ns.cloudfair.com. Prendiamo nota di questi due name server, li copiamo, perché ci serviranno poi sul sito nick.eu.org. Ovviamente prima ci registriamo su questo sito, nick.eu.org, cliccate qui, vi registrate, è tutto assolutamente gratuito, dovrete poi attivarvi tramite email, tramite l'email che vi mandano. Dopodiché inviate la richiesta per un nuovo dominio. Qua saranno presenti ovviamente le vostre informazioni e in basso, sul name 1, andate a mettere il name server 1 che avevamo visto. Sul name 2 andate a mettere il nome del name server 2 che avevamo visto. Dopodiché cliccate su submit, il sito farà un controllo dei name server e se tutto va bene, armatevi di pazienza perché c'è da aspettare. È tutto gratuito ma si può aspettare fino a mesi. Non vi preoccupate, la cosa però funzionerà. Dopo una lunga attesa riceverete finalmente un'email da parte di nick.eu.org con la conferma dell'attivazione del dominio. A quel punto potrete andare su Cloudflare o sul vostro server DNS e scegliete il vostro dominio che avevate inserito e andate sulle impostazioni DNS. Possiamo cominciare a scrivere del record. Allora, come minimo abbiamo bisogno di un A record per la nostra root. Io scriverò qua chiocciola per root appunto e come vedete già mi ha scritto clarintuxblog.eu.org. Il nome l'ho cambiato, sì lo so, ma questo esiste per davvero, quindi utilizzeremo questo in questo esempio, in questa guida. Poi dobbiamo mettere il nostro indirizzo IP, l'indirizzo IP del server. Metterò un indirizzo IP di fantasia. Voi mettete quello esatto, quello vostro. Il resto può rimanere così com'è. Andiamo su salva. Dopodiché aggiungiamo un altro A record. Se volete un server web, ovviamente vi servirà, beh, vi servirà buona regola, scrivere qua www in modo tale da far puntare anche www.clarintuxblog.eu.org al vostro indirizzo IP. Adesso riscrivo quell'indirizzo IP assolutamente fasullo, salviamo anche questo. Ok, questo potrebbe già bastare, ma per rendere il sito web, a questo punto stiamo parlando di un server web, per rendere il server web moderno andiamo ad inserire anche dei record AAAA. Questi funzioneranno non con l'indirizzo IP che avevamo scritto, non con l'indirizzo IP di versione 4, ma con l'indirizzo IP 6, con l'IP 6. E allora, il nome, di nuovo la chiocciola, l'indirizzo IP adesso sarà qualcosa del tipo bo, c, d, d, e, due punti, qualcosa così, due punti, qualcosa così. Speriamo che mi dirà che va bene. Proviamo a salvare. No, è richiesto un indirizzo IP 6, valido. Va bene, ci siamo capiti, voi dovete inserire qua il vostro indirizzo IP. E quindi creare due record AAAA, precisi a quelli che avevamo già creati per gli indirizzi IP normali. Direi che siamo pronti, dobbiamo procurarci ovviamente l'hardware e una distribuzione Linux. Come hardware fate un po' voi, se volete vi dico cosa utilizzo io. Io utilizzo veramente il minimo indispensabile, ovvero un Raspberry Pi 0. Credo che sia costato 10 euro, ma fa egregiamente il suo lavoro. Io ci faccio girare un server web, un server di messaggistica XMPP e un server email. Tutte e tre le cose, senza avvertire la necessità di passare ad un hardware più potente. Quindi sono contento che il dispositivo consumi poco e va benissimo così. Come distribuzione Linux potete puntare a diverse distribuzioni adatte a server. Io direi che non abbiamo necessità di supporto tecnico di Red Hat, quindi in questa guida utilizzerò Debian. Ho preparato Debian su macchina virtuale, una semplice installazione pulita, senza ambiente grafico, senza login all'utente root. Cioè quando l'install di Debian vi chiede di inserire la password per root, saltate il passaggio, in modo tale da avere un utente semplice che potrà accedere ai poteri di root tramite sudo. Quindi ricapitolando, su taskcell togliete la spunta a qualunque ambiente grafico, taskcell vi darà anche la possibilità di installare un server SSH e un server web. Io non l'ho fatto, effettueremo questi passaggi adesso. Quindi, prima cosa direi di aggiornare la distribuzione, quindi sudo apt update end end sudo apt upgrade. Diamo la password sudo. Dopodiché, io per gestire le regole del firewall utilizzo ufw, quindi installiamo ufw. Già che ci sono anche vim, perché come editore di testo io utilizzerò vim. Se voi volete utilizzate nano, oppure quel che volete. Ok. Install, l'ho dimenticato di scrivere. Sudo apt install. Fatto. Poi attiviamo il firewall. Sudo ufw enable. E in questo modo avremo tutte le connessioni in entrata bloccate. Dopodiché dovremo aprire delle porte. Allora, dobbiamo poi installare ssh. Quindi open ssh-server. Fatto anche questo, andiamo ad editare il file slash etc slash ssh slash sshd trattino basso config. Qua vediamo port 22 e la porta standard. Sinceramente vi consiglio di cambiarla, ma non semplicemente mettendo 23 oppure 22, 22. Mettete proprio un numero di fantasia. Adesso io qua non lo farò per questa macchina virtuale, ma vi consiglio di farlo. Andando in basso possiamo vedere, ad esempio qua, permit root login. Io metterei no. Va bene. E in seguito andremo a cambiare altre cose su questo file. Ma per il momento va bene così. Quindi usciamo, chiudiamo ed usciamo. Se avete cambiato la porta dovete dare la regola al firewall per aprire quella regola, quella porta. Quindi sudo ufv allow, non lo so cosa avete messo, 22, 22, va bene, 22, 22, slash, tcp. E in questo modo abbiamo aperto la porta. Cos'altro? Dobbiamo riavviare il demone di SSH. Restart SSH. Ok. Non mi ricordo se basta riavviare SSH o dobbiamo riavviare SSHD. Va bene, facciamo entrambi. Direi che potete scollegare monitor e tastiera di cui non avremo più bisogno. Finalmente possiamo connetterci in SSH. Allora, vi farò vedere come fare. Se la porta utilizzata è quella standard, avete lasciato 22, scrivete semplicemente SSH, il nome dell'utente, chiocciola e l'indirizzo IP. L'indirizzo IP può essere quello locale, se siete a casa vostra dietro al vostro router, oppure l'indirizzo, come si dice, globale, se vi collegate dal remoto fuori da casa vostra. È chiaro che collegandomi da remoto dovete aprire la porta anche sul vostro router. Non vi spiegherò come fare perché aprire una porta sul proprio router dipende dal modello specifico di router che avete. Quindi, SSH, nome utente, chiocciola ed un indirizzo IP. Se avete cambiato la porta, SSH-P è poi la porta. Ad esempio, 2222. Ok, poi nome utente, chiocciola ed indirizzo IP. Adesso non fate caso che nel mio caso abbiamo localhost, perché mi sto collegando, mi sto connettendo alla macchina virtuale. Comunque, facciamo questa operazione. Mi chiederà la password. Nel vostro caso, nella prima connessione, avrete un altro tipo di output. Comunque, seguite quanto indicato. Dopodiché, mettete la password. La password del vostro utente, no? Dell'utente su quel dispositivo, dell'utente del server. Ok. E come vedete, abbiamo Debian. Debian virtuale. Questa non è la macchina che sto utilizzando adesso, ma è proprio il server. Ci siamo connessi al server. Da questo punto in poi, amministreremo il server da qui. Adesso, piuttosto che connetterci tramite password, io vi consiglio di generare delle chiavi, quindi ci connetteremo tramite una chiave presente sul nostro computer, sul nostro portatile. Senza di essa, non riusciremo a connetterci tramite SSH. Direi che è la cosa ottimale, perché una password si può anche beccare, mentre il file ce l'avete voi, e soltanto voi. Ovviamente se lo conservate bene. Va bene, quindi, per prima cosa creiamo la cartella nascosta SSH, quindi mkdir.ssh, settiamo i corretti permessi con chmod più chmod 700 su questa directory. Ci spostiamo su questa directory. Fatto. E generiamo le chiavi pubblica, la chiave pubblica e privata tramite questo comando che io copio. Se vi state chiedendo da dove lo sto copiando, beh, dal mio sito, dal mio server. Ok, quindi, questo comando. Alla fine abbiamo il nome del file, che voi potete tranquillamente cambiare. RPI sta per Raspberry, ma nel vostro caso mettete quello che volete. Comunque sta generando la coppia delle chiavi. fatto. Possiamo mettere una password volendo. Io lascio in bianco, lascio vuoto, il che significa che ci connetteremo tramite questo file, senza l'inserimento di una password, di un'ulteriore password. Il file ci farà da password. Ok, Poi copiamo quest'altro comando per inserire queste chiavi, tra le chiavi autorizzate. Poi cambiate il nome del file, se non avete RPI. Ok, usciamo dalla connessione SSH con EXIT e copiamo questo file con SCP, poi P maiuscola e il numero della porta, nel caso in cui abbiate cambiato la porta, poi utente chiocciola indirizzo IP due punti slash home slash il vostro nome utente slash punto SSH e il nome del file creato e lo create e lo copiate sul vostro PC in questo modo. Diamo la password fatto, l'abbiamo copiato. A questo punto direi di testare la connessione SSH tramite chiave senza inserimento di una password. Quindi SSH di nuovo meno P con il numero della porta che avevate scelto nel caso in cui abbiate cambiato la porta, poi meno I è questo file che abbiamo copiato e poi nome utente chiocciola e indirizzo IP. Vediamo se funziona. Ecco, mi sono connesso a server senza l'inserimento di una password ma utilizzando la chiave appena generata. Adesso che abbiamo visto che la cosa funziona andiamo ad editare il file slash etc slash ssh slash ssh slash ssh di trattino basso config e andiamo su password authentication no mettiamo no fatto salviamo riaviamo riaviamo ssh sudo system ctl restart ssh e come al solito non ricordo se bisogna riavviare anche ssh lo facciamo ok usciamo di nuovo exit e proviamo ad effettuare una connessione senza il file quindi ssh meno p il numero della porta semplicemente l'utente chiocciola e l'indirizzo IP ecco ci dice che non è permesso dobbiamo usare la chiave se riutilizziamo questo comando con la chiave ecco che ci siamo connessi va bene ora un altro trucchetto per aumentare la sicurezza è quello di installare fail to ban lo installiamo sudo apt install fail to ban ok praticamente tramite fail to ban possiamo bannare indirizzi IP di chi tenta un diverso numero di connessioni sbagliando la password nel caso di ssh a questo punto è pure inutile perché abbiamo una chiave ma potremmo avere altri servizi a seconda di che tipo di server vogliamo e quindi credo che per impostazione predefinita su fail to ban abbiamo una gabbia per ssh ma possiamo impostare anche delle altre gabbie comunque vi mostro il file di configurazione andiamo su slash tc slash fail to ban jail.conf si bisognava copiare il file jail.conf su jail.local dove bisognava creare questo file se non ricordo male comunque sia ve lo mostro eccolo qua e questi penso siano i valori di default abbiamo un ban che dura per un'ora ecco di abilitato abbiamo ssh come vi dicevo per altri gabbie per altre gabbie dovete attrezzarvi voi e niente potete anche lasciare i valori di default ecco no veramente il ban time è 10 minuti lo potete cambiare il numero di tentativi di default è 5 lo potete cambiare potete mettere 3 potete mettere 2 quello che volete dopo quel numero di tentativi l'indirizzo IP sarà bannato e quindi verrà gli verrà proprio bloccata la porta dal firewall ok va bene siamo al punto finale della mini guida adesso andremo ad installare un server web nello specifico ngx seguo sempre la guida sul mio sito copio questo comando installeremo anche certbot per installare i certificati let's encrypt ora avremo bisogno di aprire le porte del firewall per ngx nemmeno ricordo ah si beh la 80 e la 100 la 443 però esiste già per ufw questa regola ngx full quindi semplicemente copiamo questo comando ok e queste regole già sono state aggiunte dopo di che non vado assolutamente a creare un sito mi richiederebbe del tempo ed è al di fuori dello scopo di questa guida semplicemente andremo a vedere se funziona la pagina di default non mi ricordo se vi ho detto di aprire le porte 80 e 443 anche sul router comunque fatelo ovviamente se volete che il sito sia raggiungibile anche dall'esterno di casa vostra e comunque niente non riesco a farvi vedere che la cosa funziona perché si tratta di una macchina virtuale e dovrei effettuare altri passaggi niente comunque la pagina che dovreste vedere dirà che se vedete questa pagina il server web ngx è installato è stato installato con successo è funzionante ovviamente una configurazione è necessaria va bene direi che possiamo chiudere la guida qua voi dovete assolutamente proseguire andando a installare i certificati let's encrypt e configurando eventualmente un server non so di messaggistica quello che volete comunque partite dalle basi io direi che il server web va benissimo non dovete necessariamente creare una pagina internet o quantomeno una pagina internet di chissà quale bellezza potete semplicemente utilizzarlo come un esercizio per poi raggiungere gli scopi che volete va bene spero che il video vi sia piaciuto che sia stato utile come detto io mi facevo mille scrupoli pensavo di non essere in grado di gestire un server e poi in realtà ho scoperto che gestire un server significa gestire una distribuzione linux più o meno è quello no va bene ci vediamo alla prossima ciao da clarintux